Arriva Pressboy, un must per comprimere i vostri rifiuti domestici. Un prodotto salvaspazio con risparmio di tempo e danaro. Pressboy presenta un design elegante ed è l'ideale per ogni famiglia. Il coperchio Pressboy è facile da aprire e chiudere. Se il coperchio è chiuso, si possono facilmente comprimere i rifiuti a mano. Fuori, su e giù. Con Pressboy è possibile comprimere il contenuto di tre sacchetti in uno. Da tre se non tiene uno. Pressboy è sinonimo di risparmio di tempo e danaro. Grazie a tutti.